L'amministrazione Melucci non ha proprio idea di cosa significhi fare turismo e ve lo dimostro in maniera concreta. Periodo della Settimana Santa, turismo religioso e vedete nel pieno centro di Taranto a pochi metri dalla strada sulla quale passano le varie statue della processione qui abbiamo un gazebo che nacque originariamente come infopoint per informazioni turistiche. Da anni questo gazebo è tristemente chiuso, abbandonato a se stesso, oggetto anche purtroppo di gesti vandalici. Ma è mai possibile, caro sindaco Melucci, è mai possibile, caro vice sindaco Fabrizio Manzulli, assessore allo sviluppo economico e quindi al turismo, che voi vogliate promuovere il turismo a Taranto quando un punto fondamentale come questo, un infopoint prezioso in una zona strategica da anni è tristemente chiuso. Ma vi rendete conto? E non mi venite a dire, eh ma abbiamo messo vicino al castello l'altro infopoint. Perché scusate, questo cosa deve rimanere? Chiuso, abbandonato a se stesso? Perché era così difficile mettere, magari assumere qualche giovane? Ce ne sono tanti di giovani che hanno esperienza, che si stanno formando in ambito turistico e metterli qui, dare spazio a qualche cooperativa, dare spazio a qualche volontario, a chi che sia, ma almeno valorizzare quest'area, questo punto. Non è possibile avere un gazebo così chiuso, abbandonato a se stesso con la beffa di leggere informazioni turistiche, di leggere sportello del cittadino e ancora informazioni turistiche. Guardate che scempio che sta qua dentro. Tutto abbandonato, la paletta, la scopa, il bastone per pulire, tutto abbandonato. Quando noi dovremmo valorizzare il turismo, una città che vuol dirsi turistica non può tenere in pieno centro, in Corso Umberto, in Corso Umberto, accanto di fronte al museo, di fronte al museo archeologico, al Martà, di fronte al Martà, l'info point chiuso per le informazioni turistiche. Ma vi rendete conto? Questa è una città da terzo mondo, amministrata in un modo assurdo, assurdo. Significa non avere davvero la cognizione di cosa significhi fare turismo, perché sfido chiunque a trovare una città in Italia e in un paese progredito, non in un paese sottosviluppato, in cui un ben di Dio del genere, nel pieno punto dove il turismo dovrebbe esplodere, lo si tiene chiuso. Da anni! Da anni! E questa è l'ennesima segnalazione che facciamo. Ma vi rendete conto? E allora, per favore, Melucci, smettila di parlare di ecosistema Taranto, di tutte queste favole, di transizione economica. Quale transizione? Questa è la transizione verso Taranto, città del terzo mondo, per come la state amministrando voi. Dimettetevi, per favore, andate via da Taranto, perché col vostro modo di amministrare ci state solamente distruggendo. Grazie a tutti.